Il documento di economia e finanza regionale che oggi è stato approvato dalla sinistra è già superato. Le stesse premesse del documento confermano che dovrà essere aggiornato fra meno di un mese. È un documento vuoto, così vago da dire tutto e niente. Vi faccio un esempio concreto. Dice che le società partecipate debbano attenersi ai criteri di buona amministrazione e noi siamo chiamati a votare su questo. Poi Tiper emette 95 milioni di euro di obbligazioni sul mercato estero senza il voto di nessuno. Peccato che eventuali coperture di queste operazioni finanziarie vengano poi trasferite sulla collettività. Fratelli d'Italia ha attaccato soprattutto il sistema di controlli sulle società partecipate, avanzando proposte per rafforzarli, proprio come suggerito dagli stessi revisori dei conti della regione, in sede di bilancio consultivo. Abbiamo poi presentato due emendamenti tesi ad impedire agli enti partecipati dalle agenzie regionali di affidare gli incarichi legali sempre agli stessi professionisti. L'aggiunto Bonaccini trova naturale, per esempio, che a Grea abbia affidato 16 incarichi su 16 allo stesso professionista. Ma si sa, questo è quello che resta della sinistra.